Musica Si diranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Rioniero San Nitico i funerali di Ambra Marotta, la 42 anni originaria di Castel di Sangro, morta lo scorso martedì nell'ospedale di Sulmona dopo il tamponamento a catena sulla Fondovalle Sangro. Il via libera è arrivato da sostituto procuratore della Repubblica Stefano Iafolla che ha rilasciato la salma ai familiari. Per la procura non si rendono necessari ulteriori accertamenti. Stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri della convenia di Castel di Sangro è venuto fuori che la donna ha fatto tutto da sola. Con la sua Fiat 500 ha tamponato due auto ferme al semaforo rosso e installato sul tratto di strada e interesserò da alcuni lavori in direzione Isernia. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi. Soccorsa da altri demobilisti è stata trasferita ad urgenza in ambulanza nella rianimazione dell'ospedale di Sulmona. Qui la corsa in sala operatoria. I medici hanno tentato di salvarle la vita ma i traumi interni erano troppo gravi. Il cuore della 42enne si è spento così alla vigilia del suo compleanno. La multa se la sono beccati entrambi. L'automobilista che ieri ha eseguito un'inversione di marcia dove non era consentito investendo un pedone è lo stesso pedone, la donna 60enne che sarà travolta dall'auto in piazzale San Francesco che oltre ad aver rimediato fortunatamente solo 20 giorni di prognosi per le ferite riportate dovrà pagare una contravenzione perché ha attraversato fuori dalle strisce pedonali. Nonostante queste distesse erano a una distanza inferiore ai 100 metri. Così recita il codice della strada dice il comandante della polizia municipale Domenico Giannetta che dopo i tre incidenti avvenuti tra via Mazzini e via Montesanto in un mese uno dei quali con esito mortale, quello di Giro del Monaco, ha deciso di intervenire per cambiare regole e viabilità in quel tratto di strada. La prossima settimana, così dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale si provvederà a cambiare la viabilità con l'istituzione di un senso unico nel tratto interessato dagli incidenti. In sostanza verrà realizzata una sorta di ciambella intorno a Piazzale che sarà utilizzata per creare in quel tratto un doppio senso unico da via Mazzini verso via Montesanto passando a Rasone e Piazzale e nel senso opposto da via Montesanto a via Mazzini. Nel mezzo saranno ridisegnati parcheggi che aumenteranno anche il numero e che di fatto faranno la spartitraffico tra i due tratti a senso unico. La conformazione di Piazza San Francesco infatti induce in confusione automobilisti e pedoni e a questo si aggiunge che specie la mattina il sole acceca chi è alla guida. La zona d'altronde dal punto di vista urbanistico ha subito e è destinata a subire in futuro un sovraccarico di presenze. La scuola, il giudice di pace, le attività commerciali tra qualche mese si presume anche la sede della municipale che dovrebbe trasferirsi in via Mazzini in quello che era l'edificio della scuola Masciangeli. Tuttavia nella zona dell'incitente è vietato mettere dissuasori e uno strada a scorrimento veloce per l'ambulanza, ricorda la polizia locale. Per cui i dossi sono pericolosi per i mezzi di soccorso. Massimiliano Ferrini, figlio della consigliera regionale Maria Assunta Rossi entra a far parte dello staff del viceministro delle affari esteri Edmondo Cirielli. Il caso è finito sui banchi del Parlamento grazie alla senatrice Penta Stellata Gabriella Di Girolamo che ha presentato un'interrogazione in aula a Palazzo Madama sulla vicenda vorrei vederci chiaro la di Girolamo che ha chiesto l'Umi al ministro degli esteri Antonio Tajani. Noi sospetto che scegliere un giovane laureato in economia senza esperienza come ha detto stampa di un vice ministro di uno dei ministeri più delicati abbia avuto a che vedere più con la persona che con l'intuito in calza di Girolamo. Il giovane infatti figlio della consigliera regionale di Fratelli d'Italia Maria Assunta Rossi non voglio pensare che il governo del merito, come devono definirsi, si stia trovando di fronte a un altro caso di amichettismo neanche tanto celato. Non sarebbe la prima volta, è vero, ma la cosa non sarebbe meno grave delle altre. La senatrice Sulmonese inoltre ha fatto notare anche la modifica portata dal ministero su sito internet dopo che il caso ha sollevato reazioni a catena. Il sito web istituzionale del ministero ha cambiato la denominazione dell'incarico da detto stampa responsabile per le relazioni istituzionali e le comunicazioni esterne, una cosa alquanto insolita su cui pare opportuno fare chiarezza. Per tali motivi, concludere Girolamo, ho depositato un'interrogazione al ministro degli estri per far luce su una vicenda che in ogni caso, anche qualora la nomina a detto stampa fosse legittima rispondente ai quesiti previsti, ci ha mostrato ancora una volta quale sia la concezione di merito di questa destra. Nulla di anomalo per la consigliera regionale Maria Assunta Rossi, secondo la quale si tratta di un incarico, basalo sulla fiducia e una cosa perfettamente legale firmata dal ministro Tajani, persona di grande esperienza e competenza, adiuvato da un ottimo ufficio legislativo e di gabinetto, un incarico fiduciario a tempo determinato, come ce ne sono stati tanti, ribatte la Rossi. Spero che tutto questo clamore architettato per colpire meta, chi è mossa da rancori politici e invidia personale, non lo demotivi e possa continuare con queste ed altre esperienze, ribatte ancora la Rossi, sostenendo che prima nella vita e poi nella politica, sempre operato per costruire anziché distruggere. E ancora da affidare, l'incarico per modificare il progetto di ristrutturazione è il Denino Morandi di Sulmona, l'istituto chiuso la 17 ottobre 2014 per i presunti lavori sbagliati post-sisma. E quanto è venuto fuori nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, nel corso della quale è stato recepito l'ordine del giorno, presentato da capogruppo Pentastellato, Angelo D'Aloisio, ci sono dei problemi, esordito il sindaco Gianfranco Di Piero, parlato con il Presidente della provincia e sappiamo che si sta provvedendo a correggere il progetto. Con quest'ordine del giorno ci impegniamo a seguire costantemente la situazione. L'enore progettuale è quello emerso lo scorso anno, nel corso dell'ultimo vertice tra provincia e proveritorato alle opere pubbliche, e designato nel 2017 come soggetto attuatore dei lavori. Nel corso del passaggio di consegne sono emersi alcune anomalie progettuali, ovvero la collocazione della centrale termica e dell'ascensore nella parte inagibile sulla quale non sono previsti interventi. Per questo la provincia si è messa in moto per apportare le modifiche al progetto fatto, affinché tali tecnologie vengano ricondotte nella parte del fabbricato oggetto in intervento. Tuttavia, nonostante gli annunci, la determina per affidare l'incarico o di revisione del progetto verrà firmata oggi o al massimo domani, come conferma la consigliera provinciale Antonella Lagatta. Ciò vuol dire che il progetto è ancora da correggere, si impiegherà poco tempo, rassicura Lagatta, mentre il comitato, guirato da Franco D'Amico, non molla. Dopo la protesta dello scorso 17 ottobre, organizzata in occasione del decimo anniversario della chiusura della scuola, il comitato è pronto a avvistare la manifestazione, minacciando anche proteste eclatanti. Stiamo aspettando la convocazione in prefettura? In quella sera dovranno esserci tutte le parti per fare chiarezza a carte scoperte, conclude l'amico. L'inchiesta lo scorso anno si è chiusa con la prescrizione per i sette imputati. La condanna è invece arrivata per la popolazione scolastica. è costretta ad aspettare. Si terrà domani, 8 novembre, alle 17.30, presso l'Aula Consigliare di Palazzo San Francesco, un incontro di presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile, conosciuta precedentemente come Cooperativa Elettrica Peligna. Durante l'evento, Rocco Fabrizi, ingegnere, e Alfonso Fabrizi, presidente della Comunità Energetica Rinnovabile, illustreranno il progetto intitolato Produzione e consumo a chilometro zero di energia pulita. L'iniziativa, già avviata con 60 soci, si rivolge ai residenti del Comune di Sulmona e dei Paesi del Comprensorio Peligno. Le conclusioni dell'incontro saranno affidate all'assessore Sergio Berardi, che sottolineerà l'importanza del progetto per la comunità locale e l'ambiente. L'evento rappresenta un'opportunità per i cittadini di conoscere più da vicino le dinamiche della produzione di energia pulita e i benefici dei consumi a chilometro zero, contribuendo così a un futuro più sostenibile. Conf Agricoltura L'Aquila ha espresso la propria soddisfazione sugli esiti del convegno promosso dal Consorzo di Bonifica Interno Aterno Sagittario sulla gestione razionale della risorsa idrica per far fronte ai bisogni di irrigazione dei terreni agricoli. Bisogna dare atto al Presidente dello stesso Consorzio, Maurizio Monaco, e al Consiglio di Amministrazione della Lungimiranza nell'affrontare tali temi e per risolvere le presenti questioni di gestione del Consorzio. Vogliamo esprimere un plauso al Presidente e all'intero CDA del Consorzio che hanno inaugurato il primo anno di questo nuovo corso di gestione organizzando un prezioso e partecipatissimo appuntamento con istituzioni, esperti e ricercatori di livello nazionale. Un appuntamento che speriamo possa diventare un annuale incontro formativo e di ricerca, afferma il Vice Presidente di Conf Agricoltura Abruzzo, Fabio Spino Sappingue. Anche questo è il ruolo del Consorzo di Bonifica, quello di creare cultura, di valorizzare la preziosa risorsa acqua e di continuare ad implementare le best practice, così da innovare, assieme agli imprenditori locali, le modalità e i sistemi di programmazione dell'irrigazione delle varie culture. Un nuovo corso di gestione concentrato nella ciclopica opera di risanamento e costruzione di procedure e regolamenti che capitalizzano il Consorzio per riportarlo sulla corretta strada del risanamento dei conti rispetto a più di qualche gestione allegra degli anni precedenti, molto concentrate al clientelismo che ha depredato l'ente, conclude Fabio Spino Sappingue. La discussione affrontata dai numerosi esperti di chiara fama è stata incentrata sulla gestione razionale della risorsa idrica per far fronte ai bisogni di irrigazione delle culture agricole che soffrono gli effetti dei cambiamenti climatici che investono significativamente tutti i comprensori di pertinenza del Consorzio. Notevoli sono gli investimenti che si stanno realizzando per innovare i sistemi in rigui e che ridurranno e razionalizzeranno l'utilizzo della preziosa risorsa. Fondamentale è stato il coinvolgimento degli operatori del settore, agricoltori e loro associazioni che in contraddittorio con l'istituzione pubblica, Ministero dell'Agricoltura, Autorità di Bacino, Regione e Sindaci hanno dibattuto sulla necessità di affrontare le questioni in maniera coordinata, finalizzata all'adozione di misure contro la siccità e il dissesto idrogeologico, fenomeni opposti causati dai cambiamenti climatici. Il sottosegretario di Stato Luigi Deramo e il vicepresidente e assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente hanno rivendicato i notevoli sforzi economici fatti dal Ministero e dalla Regione per affrontare le emergenze degli ultimi anni, hanno ribadito i loro impegni sulla necessità di snellire le procedure per arrivare alla piena realizzazione dei progetti finanziati sulla rete idrica e idraulica e sollecitato i consorsi a predisporre nuovi progetti unendo le competenze tecniche dei cinque consorsi abruzzesi come da tempo sostenuto da Confagricoltura. Il presidente del consorzio, Maurizio Monaco, nel chiudere l'intensa giornata convegnistica ha richiesto all'assessore Imprudente uno sforzo ulteriore per risolvere il problema delle concessioni. Dobbiamo superare la burocrazia che rallenti i processi per ottenere le concessioni idriche, per questo occorre una cabina di regia regionale per superare le troppe competenze sparpagliate nei vari dipartimenti. Possiamo fare progetti ma senza le concessioni, questi sono solo carta straccia, concluso Maurizio Monaco. Confagricoltura è impegnata in accordo con i presidenti dei consorsi a sollecitare modifiche al regolamento per le concessioni idrauliche e dalla non più rinviabile emanazione delle disposizioni sulla polizia idraulica necessaria a proteggere, conservare e vigilare sulle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. La delegazione provinciale di L'Aquila dell'Associazione Italiana Combattenti Interalleati, come consuetudine, ha organizzato la commemorazione dei caduti di tutte le guerre di tutti i fronti presso il sacello militare della Madonna degli Angeli in località Badia, a Sulmona. E' presenti le rappresentanze dell'esercito, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia locale e le associazioni combattentistiche e d'arma. Il custode del sacello militare Cavaliere Donato Agostinelli ha ringraziato tutti i presenti alla cerimonia, dove è stato ricordato Panfilo di Gregorio, vicebrigadiere corte, milizia nazionale forestale di Canzano. Comandante di squadra, incaricato di tenere un tratto di fronte molto pericoloso, assolveva la consegna in modo esemplare. Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 1936, durante un contrattacco sferrato contro infiltrazioni nemiche, in un corpo a corpo rimaneva gravemente ferito all'avambraccio sinistro, consigliato di regarsi al vicino posto di medicazione. Decisamente rifiutava di abbandonare il combattimento al quale attivamente seguitava a partecipare, dando un mirabile esempio di coraggio e prove di elevate virtù militari. Colpito nuovamente, era costretto per la gravità delle ferite a non poter più adoperare le proprie armi. Raccolto in mezzo a numerosi nemici da lui stesso abbattuti, esprimeva il più vivo rammarico per dover desistere dal combattimento ed incitava i compagni a conseguire la vittoria. Prossimo alla fine, con fiere e commosse parole, rivolgeva il devoto pensiero alla patria, alla famiglia. Fulgito esempio di stoicismo e di attaccamento al dovere. Questo sacerlo è importantissimo perché è un sacerlo militare voluto dalla gente povera della Valle Peligna. Quindi loro nel 1928 iniziarono con una sezione di combattenti, iniziarono a raccogliere il denaro per costruire un sacerlo. Qui dovevo portare un fiore a tutti i nostri caduti che avevano perso la vita nelle varie battaglie. Nel 1936 con la morte di Filippo Freda, la sezione di combattenti di Baria, il cui presidente è da Dante Padana e che è una guardia d'onore, è un bersagliere, decise di anticipare ancora i tempi per costruire subito questo sacerlo. Le persone che avevano alcune lire contribuivano alla colletta, perché non ci dimentichiamo che dopo la prima guerra mondiale qui si viveva soltanto i pastorizi di agricoltura, coloro che non avevano denaro si presentavano qui la mattina a prestare proprio il giornale lavorativo, nel far presente che erano povere ma che avevano perso un figlio in guerra o un marito in guerra. E quindi molte erano donne che trasportavano l'acqua e gli uomini trasportavano la sabbia, la calce, il cemento e lavoravano qui. La cosa più toccante che desidero sottolineare è che gli alpini che erano a combattere in Africa, venuti a conoscenza che qui a Baria si stava costruendo questo sacerlo dedicato ai caduti tutte le guerre su tutti i fronti, nella testa amarezza che non sarebbero mai tornati qui e che i loro corpi sarebbero rimasti in Africa, decisero di rimandare quelle poche lire di stipendi che gli venivano date, rimandarle qui per costruire questo luogo e per così loro potessero essere ricordati con una preghiera. Perciò noi ogni anno ricordiamo tutti i caduti delle guerre e su tutti i fronti. Sì, questa è una giornata molto gradita per tutti i cittadini di Canzano, per l'amministrazione comunale, in quanto in questa giornata qui a Sacrario della Badia viene ricordato un nostro illustre concittadino, Panfilo di Gregorio, già medagliadoro del Corpo Forestale dello Stato, a cui tra l'altro è intitolato il Palazzo Comunale, che si chiama appunto Palazzo Comunale Panfilo di Gregorio. È una giornata in cui è importante rendere onore la memoria di un figlio di Canzano caduto per la patria ed è una cosa veramente gradevole e degna di nota che venga fatto e venga fatto ancora perseguendo la memoria dei nostri caduti dopo tantissimi anni. E quindi è con enorme piacere che mi trovo qui a rappresentare l'amministrazione di Canzano e tutta la cittadinanza. Credo fermamente che nel futuro, se si vuole guardare al futuro, bisogna avere i piedi ben saldi nel passato. Solo questo ci consente poi di fare dei salti in avanti. E quindi la memoria in tutte le sue forme, questa ne è una forma rispettosa di memoria per i caduti di tutte le guerre, che noi tutte le volte ci auguriamo che non si ripetano più, ma purtroppo la storia sinora ci dà torto. Speriamo che prima o poi, perché se no andremo verso l'estinzione del genere umano, speriamo che prima o poi la maggioranza delle persone capisca che la guerra sono i cibi inutili, che tutto quello che si raggiunge con le guerre si può raggiungere con la pace, con il dialogo. E quindi la memoria di quelli che sono stati vittimi delle guerre è importante, sperando che non ce ne siano più nel futuro. Quindi questo è quello che riguarda la giornata di oggi. Il prossimo sabato 9 novembre ricorrerà il 104esimo anniversario della nascita del maestro Italo Picini e, come di consueto, l'Archeoclub, sede di Sulmona, intende ricordare il pittore sulmonese con un'iniziativa a lui dedicata. Per l'occasione, partner dell'associazione sarà il Polo Liceale Ovidio. L'appuntamento è alle ore 10 presso l'Aula Magna del Liceo Artistico Mazzara, erede dell'omonimo istituto d'arte di cui il maestro Picini fu docente e preside. Protagonisti dell'iniziativa saranno gli studenti degli indirizzi Architetture e Ambiente e Arti Figurative del Liceo, i quali, coordinati dalle docenti Carmen Lucci, Zoraide Palozzo e Claudio Acolangelo, presenteranno le loro proposte di rinnovamento e promozione riguardanti la Pinacoteca Provinciale Italo Picini. Gli studenti dell'indirizzo Architettura e Ambiente, in particolare, hanno lavorato sul progetto di un nuovo allestimento del percorso museale, mentre quelli dell'indirizzo Arti Figurative si sono cimentati nell'elaborazione di un logo e di materiale informativo a servizio dei visitatori. Le attività che hanno visto impegnati gli studenti a partire dallo scorso anno sono svolte in base a una convenzione tra la sede di Sulmona di Archeoclub d'Italia, gestore della Pinacoteca Provinciale Italo Picini, e l'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio, di cui fa parte il liceo artistico Mazzara. Dopo il grande successo del Festival Estivo, la nuova stagione di Montagni in Jets Winter a Spazio Pingue è pronta ad accogliere gli appassionati di musica in un ambiente che fonde tradizione e modernità, creando la cornice ideale per una serie di eventi dedicati al jazz e alle sue sfumature. Dal 22 novembre al 4 aprile 2025 il palco di Spazio Pingue sarà animato da artisti di fama internazionale e di altissima rilevanza nazionale, offrendo una varietà di sonorità che incanteranno anche gli ascoltatori più esigenti. Ad aprire questa edizione, il 22 novembre, sarà Benito Gonzales Trio, un concerto che promette di affascinare il pubblico. Benito Gonzales, pianista venezuelano di grande talento, accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra ritmi contemporanei arricchiti da influenze latine e africane, fondendo energia e virtuosismo in un'esperienza musicale unica. Nominato due volte ai Grammy, vive a New York ma gira il mondo portando la sua musica sui palchi di ogni continente. La magia degli anni 30 e 40 rivivrà con la Billy Bross Swing Orchestra che trasporterà gli spettatori all'epoca d'oro dello swing. Il 13 dicembre la band porterà una serata piena di allegria dove il ritmo travolgente del Cotton Club e delle grandi orchestre americane tornerà a far ballare il pubblico. Inoltre Spazio Pingue arricchisce l'esperienza musicale con un'offerta enogastronomica d'eccellenza. Gli spettatori potranno scegliere di abbinare allo spettacolo una cena raffinata o un tagliere di prodotti locali per trasformare ogni serata in un'esperienza multisensoriale in cui musica e cucina si incontrano in perfetta armonia. Si è conclusa la prima giornata del 42esimo Summer International Film Festival, siamo al Cinema Pacifico ed è iniziata questa mattina presto con gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie, quindi i relativi premi SIF Kids e SIF Studenti. È stato davvero bello vedere il loro entusiasmo, la meraviglia, l'entusiasmo, la partecipazione davanti al grande schermo ed è quello naturalmente per cui noi abbiamo creato questi due tipi di premi con i ragazzi che sono proprio loro la giuria, quindi loro giudicano e attribuiscono il premio al vincitore con le loro schede, facciamo la conta dei voti e quindi nella giornata di domani sarà la successiva fase del SIF Kids e SIF Studenti, vedremo altre classi, altre scuole di Sirmone del circondario e riusciremo ad attribuire appunto grazie a questo ruolo che abbiamo voluto gli studenti assumessero, quello di responsabilità di giurati, il premio appunto per queste due categorie. Abbiamo continuato oggi con due fasce di cortometraggi, con alcuni ospiti tra cui mi piace ricordare un regista giapponese con un colto molto interessante che denota tutta la sua cultura del luogo che ha voluto trasmettere tramite le immagini e è stato presente con noi, è stato intervistato e ci ha fatto molto piacere e questo è anche uno dei motivi per cui il nostro è un festival internazionale perché oltre alla selezione di tante categorie e tanti cortometraggi da quest'anno da 15 paesi del mondo abbiamo ogni tanto anche degli ospiti appunto che vengono attraverci dall'estero questa è chiaramente una delle caratteristiche che andiamo sviluppando sempre più in futuro. Abbiamo concluso la serata poi con il talk con Eros Puglielli, regista di Sono Lillo 2 che è stato appunto condotto da Francesco Allò, il nostro critico cinematografico che ha inventato un po' questa formula insieme a noi già da qualche anno. Nella giornata di domani il calendario è altrettanto ricco perché ci sarà la mattinè dedicata proprio agli studenti ancora due fasce di cortometraggi e un lungometraggio, un lungometraggio Anywhere Anytime di un regista iraniano ma ambientato in Italia sulla storia di un rider quindi una sorta di ladri di biciclette ai tempi moderni e avremo anche come ospite Piercesare Stagni che è il presidente della Film Commission Abruzzo ci verrà a parlare dei nuovi sviluppi di questa fondazione che è stata da poco costituita e che speriamo sarà un volano di sviluppo del nostro territorio. Ero 2 per me è un'esperienza, devo dire, veramente straordinaria già il primo per me è stato molto importante come ci ho potuto riversare tante cose anche personali in questo secondo capitolo devo dire che è stato esponenzialmente più divertente perché appunto è stata l'occasione per esplorare un po' il tema del sé, dell'identità dell'accettazione della parte ombra e successivamente passare in questa seconda stagione a dove porta questa accettazione, dove potrebbe portare il luogo non proprio positivo dove potrebbe portare appunto lo sviluppo di un certo narcisismo quindi in qualche modo questa seconda stagione parla di questo parla di come la felicità sia un fatto collettivo e non individuale e tutto questo lo fa un po' percorrendo anche un po' le strade del fantasy o della commedia del fantasy, del fantastico che sono tutte cose per me molto care perché chiaramente io amo tantissimo questi generi insomma sono uno spettatore e diciamo come regista amore tantissimo un po' parmi di queste cose ma ecco il privilegio di poter lavorare con questi materiali e contemporaneamente far anche ridere, ecco questo veramente è una cosa che capita veramente poche volte insomma sono molto felice di aver fatto questa esperienza e diciamo il rapporto con il cast, prima e seconda stagione diciamo parlo di Lillo ma parlo anche di tutti gli altri che sono da Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Corrado Cuzzanti, Marco Marzocca dico loro ma sono praticamente un grande gruppo di attori comici e anche amici insomma devo dire con cui ho quasi un rapporto telepatico nel senso che abbiamo, condividiamo un certo tipo di senso dell'umorismo che vira spesso verso anche diciamo la comicità surreale e comunque cerchiamo anche di trovare delle modalità comiche che non siano proprio scontatissime ma che siano comunque ugualmente larghe e quindi ecco abbiamo appunto in comune questo amore per questo cinema comico che più che per la commedia proprio per il cinema comico deve generare risata allo stesso tempo utilizziamo tutti un po' insieme questo tipo di cinema per veicolare appunto il messaggio della storia insomma grazie a tutti